E' così nella seconda parte, però non abbiamo nulla da fare, infatti abbiamo fatto tutto. Ora, sono sporca di frappè, devo mettere la crema che leva tutto, anche la cioccolata. Infatti ora me la metto, mi prendo un goccio a goccio, è questa qua bellissima, non ve la faccio vedere, a 50 like ve la faccio vedere, è una cosa che pulisce tutto, si però più di là la parte, forse è andata in bagno. Quella al cocco che si diceva, in questo asciugamalino, e se ne è andato ora, questo che non abbiamo andato a fare, lei è andata pure. Beh, alla parte 3 che facciamo la doccia è tutto, ora ci vogliamo un po' riposare, perché è da stamattina che facciamo video. Ciao! Ciao!